Rimaniamo sul volley per parlare della Bartoccini Perugia, club molto ambizioso tenendo conto degli arrivi quest'anno sul mercato. Sentiamo Paola Costantini. La Bartoccini gioielleria Perugia mette a segno un altro colpo di mercato per la stagione 2018-2019. A Perugia proda Eleonora Bruno, libero di grande esperienza, una delle giovani più interessanti d'Italia nel suo ruolo, reduce da un campionato di altissimo livello con la maglia di cuneo. Bruno, classe 94, 180 cm di altezza originaria di Pontedera, ha iniziato la sua carriera pallavolistica nel 2009. Grandi doti e tanto lavoro l'hanno portata a far parte del progetto federale del Club Italia. Nello stesso periodo fa parte della nazionale Under 18, con la quale nel 2011 si aggiudica la medaglia d'argento nel campionato europeo di categoria. Poi nell'Under 19, con la quale nel 2012 vince la medaglia di bronzo nel campionato continentale. Nella stagione 2012-2013 viene ingaggiata da Volley Bergamo in Serie 1, dove resta per due anni per poi passare nel 2014 alla Rubo Artiboni Urbino Volley. L'ario dopo si trasferisce all'Agile Volley Novara, mentre in quello successivo a Bolzano sempre in A1. L'anno scorso ha giocato in Serie 2 con Cuneo, arrivando alle semifinali dei play-off. Questo è il bilancio complessivo degli arrivi perfezionati fino a questo momento dalla Bartoccini. Giulia Pascucci L'anno scorso ha giocato in Serie 2 con Cuneo, arrivando alle semifinali dei play-off.